Occhio, occhio, sta per scadere! La promozione Sconto Flash 48 termina oggi alle 14! Non sai cos'è, ma in che mondo vivi? Se ti iscrivi entro le 14 di oggi, il corso di doppiaggio costa la metà! Non dire che non ti voglio bene! Approfittane o passa parola! Sconto Flash 48! Sì, scade oggi. Chi c'è c'è e chi non c'è non c'è.